presentare una delle stelle più luminose del mio personale figuramento, un applauso per il professor Fragliese che ci parlerà di necessità della trasparenza dall'incertezza alla chiarezza. Buongiorno a tutti, grazie Dario, mi hai lasciato senza parole, sono un po' imbarazzato. Oltre a buongiorno mi permetto di rifare, anche se siamo oramai al 3 di gennaio, degli auguri a tutti quanti di un buon anno e che sia un anno che ci possa dare un po' più di luce e un po' più di speranza. Quello che è successo nel 2021 lo potrei riassumere con una parola che è incertezza, incertezza su quello che era giusto fare, incertezza sui dati, incertezza sulle leggi, incertezza sui comportamenti da mantenere le distanze, i centimetri e i green pass, 1, 2, 3, ultra e tutto il resto. Questo stato di incertezza ha lasciato tutti quanti tesi, preoccupati e senza una chiara visione verso dove in qualche maniera stiamo andando. L'anno scorso è stato un anno di panico, di stress, di preoccupazioni, alcune reali, alcune meno reali. Perdere il lavoro per esempio ovviamente diventa molto reale, perdere i cari per una patologia è ovviamente molto reale, ma il panico che è stato creato è antimedico e in parte anche antiscientifico, perché sicuramente non serve a migliorare la situazione né clinica né psicologica delle persone. L'incertezza, quella che vedete qui, è la tabella dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci sono un po' di dati, alcuni sono bizzarri. Potete vedere il numero di morti che sono stati avuti nelle ultime settimane, la differenza tra i vaccinati e i non vaccinati. Apparentemente i due numeri sembrano, vediamo se si vede, i due numeri sembrano, questi sono le persone vaccinate e queste sono le persone non vaccinate. I numeri sembrano uguali, le percentuali sono ovviamente diverse perché il numero delle persone vaccinate è più alto delle persone non vaccinate. Ci sono però ulteriori dati un po' complessi da comprendere, tipo il numero degli accessi in terapia intensiva correlato alle morti, quindi si hanno più di 800 accessi in terapia intensiva dei non vaccinati a fronte di 26 nei vaccinati, però poi il numero dei morti da 26 in terapia intensiva diventano 52, quindi non riesco a capire se le persone muoiono direttamente senza passare dalla terapia intensiva. I dati italiani sono spesso complessi da leggere, sia per la maniera in cui sono raccolti, sia per la maniera in cui vengono definiti, per cui preferisco normalmente passare anche a dei dati diciamo europei oppure americani, inglesi che vengono a volte presentati in maniera un po' più chiara. L'incertezza dell'anno scorso si può riassumere con questa slide qui in particolare. Questo è l'avviso da parte del CDC che dal 31 di dicembre del 2021 non si sarebbe più usata la PCR per fare diagnosi di SARS-CoV-2. Per quale ragione? È spiegato lì in inglese, ma c'è scritto che il CDC incoraggia i laboratori a considerare l'adozione di un metodo multiplex, si chiama, che può facilitare la detezione, la differenziazione tra il SARS-CoV-2 e l'influenza. Che cosa abbiamo misurato l'anno scorso? Su cosa abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto? L'incertezza regna sovrana, è regnata sovrana, vediamo se riusciamo ad andare un po' meglio quest'anno. 2022 il mio augurio è che sia di chiarezza mettere bene a fuoco quali sono le problematiche, quali sono stati gli effetti delle scelte che sono state fatte, quali sono i dati che sono adesso disponibili che prima non erano disponibili e a mente un po' più lucida, forse con meno paura, riusciamo forse a trovare una strada che sia un po' più logica e soprattutto un po' più umana rispetto a quanto messo in onda fino adesso. Il primo messaggio che vorrei mandare quindi per il 2022 è di serenità e di positività. Questa che vedete è un preprint quindi non è stato ancora pubblicato ma lo sarà breve immagino e sono i dati che riguardano l'ospedalizzazione e la mortalità dell'omicron rispetto alla delta. Ci sono stati in questo studio fatto in Canada 21 ospitalizzazioni tra tutti quanti i pazienti presi in considerazione pari allo 0,3% e 0% di morti. Allora questo dato già preso in considerazione dovrebbe tranquillizzare tutti perché significa che questa continua emergenza forse si potrebbe anche rallentare un pochettino o prendere in considerazione in maniera diversa. È presto per trarre conclusioni però quello che è abbastanza chiaro al momento è che la omiricon sembra quasi una soluzione del problema piuttosto che la nuova ondata del dramma perché questo è un vaccino naturale. È stato visto da altri studi che la infezione con l'omiricon produce anche anticorpi per la delta quindi verso la versione più antipatica. Quindi piuttosto che aspettare il nuovo vaccino delle case farmaceutiche per la omicron prenderà in considerazione i dati perché se lo producono dopodiché lo venderanno e dopo averlo venduto dovranno iniettarlo. Allora cerchiamo di basarci sui dati e non sui desideri delle case farmaceutiche. Questo è il rapporto, visto che vi parlavo dei dati, è il rapporto fatto in Danimarca. Qui ci sono dei dati estremamente interessanti che spero chiariscano ulteriormente alle persone e soprattutto ai miei colleghi medici qual è la situazione. Mi permetterò oggi di fare un appello ai miei colleghi, a quelli che come diceva Dario hanno studiato medicina, fisiologia, fisiopatologia e tutto il resto perché so che siete tanti che in realtà si rendono conto delle cose che sono state utilizzate che però vanno un po' contro quelle che sono le leggi della fisiologia. Quindi spero che i colleghi abbiano il coraggio di discutere con gli altri di quelle che sono le loro opinioni piuttosto che per mantenere il posto di lavoro in maniera più semplice semplicemente non parlare. I dati sono questi. Allora abbiamo, per quanto riguardano le altre varianti in generale, il 23,8% di persone non vaccinate si sono infettate, il che significa che 75 sono vaccinati. Quindi tre quarti sono vaccinati, un quarto non è vaccinato. La percentuale in Danimarca è del 75% di vaccinati. Ma per quanto riguarda la Omicron c'è un dato molto bizzarro. L'8,5% dei non vaccinati è stato infettato con la Omicron, il che significa che il 91,5% sono vaccinati con la Omicron, che è quello che state vedendo tutti intorno a voi, tutte le persone vaccinate si stanno prendendo la Omicron. Per fortuna non è grave, non è un problema. Però forse continuare a dire che il problema sono i vaccinati che trasmettono la patologia, a questo punto diventa complicato da sostenere con una tesi che possa essere plausibile. Qui vengo ai colleghi. Nel 2020 i medici sono stati considerati gli eroi della pandemia, coloro che coraggiosamente stavano in ospedale affrontando la patologia, mettendo a rischio le loro vite. Benissimo. A parte che non sono stati tutti i medici così, perché vorrei ricordare anche quella parte di medici che durante la pandemia è sparita. Medici di famiglia e altri tipi di medici che venivano chiamati e preoccupati di prendersi la patologia non sono andati a visitare i loro pazienti. Io non voglio fare la morale a nessuno, ci mancherebbe altro, però ritengo che questo non sia l'atteggiamento da medico. I reparti sono pieni. Che cosa succede? La scienza ci dice facciamo il lockdown. Non entro nel dettaglio del lockdown perché starei a parlare mezz'ora sugli effetti o non effetti. Vi ricordo semplicemente che è una misura che non era mai stata fatta prima nella storia dell'umanità come risposta medica. Cioè chiudo una città per esempio che non ha nessun caso, chiudo tutti quanti dentro casa perché non abbiamo nessun'altra possibilità. Il messaggio peggiore è la medicina e la politica, non potevano dare. Dopodiché ci dicono che dobbiamo aspettare i vaccini. Benissimo, aspettiamo i vaccini. Tachiperina è vigile attesa. Mi dispiace ma è tecnicamente sbagliato. Le autopsie non si fanno. Ragazzi se non facciamo le autopsie non ci abbiamo i dati. Se non ci abbiamo i dati non sappiamo come le persone muoiono, non sappiamo se c'è una patologia autoimmune, non sappiamo se c'è la coagulazione, non sappiamo i meccanismi di azione fisiopatologici. Per cui le autopsie erano e sono fondamentali. La sperimentazione farmacologica la facciamo? No, dobbiamo aspettare i vaccini. Io ho la logica, scusatemi, ma ancora oggi non la trovo. Dopodiché nel 2021 gli stessi medici che erano stati considerati eroi all'improvviso vengono trattati come cavie e dopo due mesi di sperimentazione, dico dopo due mesi di sperimentazione, devono vaccinarsi. La risposta dei medici non è così importante come avrebbero pensato, per cui mettono l'obbligo. Mettono l'obbligo ai medici di farsi un'iniezione sperimentale per dare l'esempio agli altri che poi dovevano seguire. E anche sanitari, giustamente. Una, due, tre volte. Tutto questo per non essere sospesi. Dopodiché che si vaccini il 90%, non so quanto dei medici, è anche normale, ma non dite che è stato questo plebiscito, perché in realtà la gente l'ha fatto perché non vuole giustamente perdere il lavoro. La maggior parte dei medici si è anche, tra l'altro, molto arrabbiata, soprattutto quelli che lavoravano nei reparti, perché se lo sono presi il Covid, hanno fatto la patologia e dopodiché lo Stato gli ha detto che devono farsi una vaccinazione. Allora ai miei colleghi dico, scusate, com'è possibile che io mi faccia una patologia e dopodiché per soddisfare non so bene cosa mi debba fare un vaccino per la stessa patologia che ho già avuto? Non sappiamo quanto dura l'immunità. Scusate, non è arroganza. Fisiologia si chiama. L'immunità dura tutta la vita. Se qualcuno non è d'accordo mi spieghi anche perché, ma non è che devo avere una dimostrazione scientifica pubblicata su Nature per dire questo. La fisiologia dice questo. Se c'è qualcuno che la pensa diversamente dovrà spiegare lui con i dati per quale ragione. Quindi, francamente, vaccinare le persone che sono guarite con lo stesso, tra l'altro, virus di due anni fa non ha nessuna base né logica né scientifica, ma è solamente un'imposizione. Questo ha creato due gruppi nella società, i vaccinati, bravi, santi e coraggiosi, e i non vaccinati, terrapiattisti, brutti e cattivi. Mi dispiace molto che il Presidente Mattarella, nel discorso di Feano, ha detto lascio un Paese unito, mi dispiace, signor Presidente, questa forse è la sua percezione, alcuni di noi ne hanno un'altra completamente diversa ed è molto triste. Questa spaccatura, tra l'altro, avviene all'interno della classe medica stessa, perché abbiamo quelli che seguono la legge, come è stato detto anche a me, e quelli che ancora provano a utilizzare la logica e tutto quello per cui hanno speso un sacco di anni, almeno 11, della propria vita per laurearsi e specializzarsi. In questa divisione tra i medici ci sono dei medici, per esempio, ovviamente vaccinati. Io c'ho gente che mi scrive, per esempio, da alcune città della Sicilia, dicendo non c'è un endocrinologo che è disposto a vedermi se io non mi vaccino. E questa è una cosa che succede non solo nel mio campo, ma succede in tutti i campi medici. Ora, un medico che non visita un paziente perché non è vaccinato? Io non so cos'altro dire, ma siete medici? San Giuseppe Moscati è la mia figura di riferimento per quello che riguarda i medici. Perdonatemi, sono pure cristiano questa terribile problematica. Io non ho San Fauci, preferisco guardare San Giuseppe Moscati. Gli ammalati sono le figure di Gesù Cristo, molti sciagurati, delinquenti, bestemmiatori vengono a capitare in ospedale per disposizione della misericordia di Dio che li vuole salvi e noi li salviamo. E il vaccinato, il non vaccinato, no. È peggio di tutte queste categorie. Io penso che se San Giuseppe Moscati fosse tra di noi ci sarebbe lui al posto mio a parlare oggi. Ai colleghi dico riprendiamoci la fisiologia, la fisiologia, come funziona il corpo umano, come funziona l'immunologia. Non facciamo finta di non sapere niente perché in realtà la fisiologia la conosciamo e la ricordiamo tutti. Ci servono soprattutto studi anatomopatologici. Un appello di cuore agli anatomopatologi. Fate per favore le autopsie. Fatele sui malati di Covid. Fatele sui vaccinati che poi muoiono. Dateci un aiuto a capire quali sono le problematiche. Se sono immunologiche ancora, coagulative, di altro tipo. Abbiamo un bisogno disperato di anatomopatologia che pubblichi quali sono le problematiche. Non posso andarmi a vedere i video delle analisi anatomopatologiche tedesche perché da noi non c'è nessuno che le fa né che dice che cosa viene trovato. Quindi ai colleghi medici gli invito ancora una volta. se qualcosa delle cose che avete ascoltato ma non da me ma che probabilmente pensavate già da un sacco di tempo ce l'avete dentro alzatevi e ditelo. Ama la verità mostrati qual sei e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi e se la verità ti costa la persecuzione tu accettala e se tormento tu sopportalo e se per la verità dovresti sacrificare te stesso la tua vita e tu sii forte nel sacrificio. Stiamo parlando proprio di un'altra dimensione rispetto a quella in cui purtroppo ci muoviamo oggi. In conclusione queste sono due pubblicazioni una in preprint e una è stata già pubblicata che ci dicono che il primo è uno studio olandese che dice che sembra che i vaccini AMRNA inducono una complessa riprogrammazione funzionale del sistema immunitario che dovrebbe essere considerata nello sviluppo e nell'uso di queste nuove classi di vaccini. Cioè questi vaccini sembra che non solo producono gli anticorpi verso il SARS-CoV-2 ma che cambino l'intera popolazione immunitaria. Se cambia la popolazione immunitaria significa che deve essere tutto molto chiarito con attenzione perché non ne sappiamo risvolti perché col sistema immune non si gioca. Il secondo invece dimostra che la spike penetra all'interno del nucleo dove inibisce la riparazione del DNA. Capite da soli chi è medico che questo significa che c'è una possibilità nei prossimi anni di vedere una serie di problematiche serissime da tumori a patologie autoimmuni a chissà che altro. Gli stessi vaccini producono la spike ergo siamo sicuri che stiamo facendo la cosa veramente giusta. In particolare consentitemi come mio solito di parlare dei bambini quindi siete sicuri che vogliamo dare queste vaccinazioni a dei bambini con delle prove in vitro che dicono che inibiscono la riparazione del DNA che probabilmente mi cambiano la funzione immunitaria a dei bambini che hanno un sistema immunitario in sviluppo glielo volete dare? Abbiate pazienza. Concludo dicendo che quello di cui abbiamo bisogno non è la divisione che è stata perpetrata tra vax e no vax che sono categorie completamente assurde create apposta per distogliere l'attenzione dalla problematica vera. Noi abbiamo bisogno di umanità abbiamo bisogno di unione abbiamo bisogno di tornare ad abbracciarci fisicamente mentalmente e con il cuore perché siamo cristiani ed essere umani cristiani e no non importa siamo tutti d'accordo però che nell'unione nell'umanità troveremo una strada per il futuro nella divisione si andrà solamente verso l'oscurità grazie grazie